E' tipica Adesso che vinci Vabbè, non l'avevo sfasato Ho dato una cosa che finisce uno che era vivo Grazie 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 No, Facebook non pago 10 euro per far vedere il mio post per 5 giorni Non credo proprio Ah, 19 anni fa è uscito il primo Kingdom Hearts Quando la nostra vita si è rovinata Si sei messo almeno nella navicella? No Stai a morire fuori? No, non stai a morire E' morto Ok, vabbè Là che sia sicura Di soli Iscriviti E dall'espona Ma c'è sarà ancora E tutto Adesso Percivalo eccomi è rimasto giusto la batteria della switch eh vabbè computer sempre attaccato cellulare sempre attaccato ma se cellulare quanti anni tieni scusa sempre attaccato sì per dire no per dire niente tutti puoi lamentarsi se hai comprato il telefono ieri e oggi ce lo devi caricare ogni due ore quanti anni c'ha sto telefono c'ha avrà almeno 7 anni no non è 7 anni eh quanti c'è n'ha quattro oddio quattro sì ma mi fa per... forse proprio no guarda ma da quando non lo sono comprato io da quando è uscito nei negozi quattro lo sei comprato tu a meno che nel negozio non lo usavano quattro anni non usavo di più non usavo di più non usavo di più è un progetto non usavo di più non usavo di più la che è la gara anticarogina non usavo di più la giusta non usavo di più la giusta Grazie a tutti. Ok, mi ripristino, ho fatto un po' di spazio nell'inventario. Ok, mi ripristino, ho fatto un po' di spazio, ho fatto un po' di spazio, ho fatto un po' di spazio. E si ricomincia la ricerca. Ma che vuole sfuggire? Ok, mi ripristino, ho fatto un po' di spazio. Ma duele. Ok, mi ripristino. Ok. 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 Non è neanche sepolto, infatti perché era in aria. Ciao Franco. Ciao Franco. Ciao Franco. Ciao Franco. Ciao Franco. Allora. L'hai preso questo? O stai per i fatti tuoi tu? Ciao Franco. È l'ho preso. Questo che era vicino a me, in aria. Arrivo. Mi sa che su sto pianeta ci sono un sacco di... ...di ossa, eh. Eh, ma lo diceva, però. Eppure su quell'altro lo diceva che era... ...capito, era nelle risorse. Ne abbiamo trovata una scarsa. L'hai preso sto coso, sì o no? Sì, sì. Io approfitto per cercare robe. Almeno vado in giro... ...ah, ah! No, 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 colpa mia. Colpa mia, colpa mia. Colpa mia. Colpa mia. Non mi ricordavo, non mi ricordavo. Non mi ricordavo, non mi ricordavo. Non mi ricordavo. Non. Ma ti aiuto io a recuperarlo, a sistemarlo. Non ti aiuto a recuperare la tomba. Porca pupazza, ho sparato a qualcosa. Non mi ricordavo. Quello. Aspetta, non torna per ora. Aspetta un secondo. Ok. Ok, facciamoci. C'era scritto sciame in diminuzione. Aspettiamo prima che spariscono tutti. Ok, forse puoi tornare. Allora, se vedi quelle uova mormoranti, non le colpire mai. No, 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 no. Eh no, Franco, dobbiamo fare ancora... Dobbiamo fare tutto, praticamente. Non scannizzo ancora per certe cose. Guarda, questa è la missione che dobbiamo fare. Ah, a me dice Hai scoperto tutte le creature. Registra il catalogo completo nella pagina scoperte. Però mi mancano, vedi, ancora sei flora e sei minerali. Che palle. Le creature, a volte quelle delle stesse specie ma di dimensioni diverse te le calcola come diverse. Ma questo su tutti i pianeti. A me tre me ne manca. Ma quando scansioni una ti dice tre specie ancora mancanti. Perché pure a me. Però poi... Non lo so. Ok, tomba recuperata. Abbiamo scannato i nostri pianeti da su sei anni che stiamo qua. Praticione da su sei anni. Praticione. Praticione. Infatti ho sbagliato il titolo della live. Il titolo della live avevo messo ancora stelle invece che lo schiava ancora su sto pianeta. Sbagliato. Eh no, Franco. Eh, se non era facile. Tu, quel... Quando... Quando... Metti quella cosa che dici tu ti trova le... gli edifici e i segreti. Ma non mica ti scansiono ogni pietra animale e tutto. L'hai fatta questa? Quale questa che non so neanche dove sei. Fermo là, non ti muovere. Quale? Questa di fronte a noi? È blu. Piccolino blu davanti a me. Ah, questa? No. Ma allora, scusami, pure quella del sodio e dell'ossigeno. Sì, per ieri stavamo a dire che non le scannerizziamo mai perché sono sempre le stesse, no? Eh, ma scusami, tu dicevi quella del... Ma pure quindi pure quella che ti fa male. Tu l'hai scansionata quella che ti fa male. Sì, sì, perché sono tutte uguali. Però ogni pianeta sono diverse. Eh no, capito, però dico, io ieri quando ti ho detto quella dell'ossigeno io... mi è venuta in mente solo quella di... Sì, sì, io tentevo... No, sì, comunque l'ho fatta. Cerco sempre di farle tutte perché le ripeto sono tutte uguali identiche. Sì, sì, ma io scansiono sempre. Non è. Affanculo. Ah, ok. Che cosa scansioni sempre? Il pianeta in generale. Ma scansionare quello che ne è di franco è piazzare qualcosa a terra e fare la scansione del pianeta. Cosa che non facciamo mai. non scansionare come diciamo noi con lo scanner. Cadi di nuovo dal pero. che cosa è che cosa è che cosa è Registra il catalogo completo nella pagina scoperte. A me ne da quattro scoperte. De che le piante? Scoperte effettuali, scoperte effettuali. Maledetti voi. Ok, vabbè ti ho trovato, però tu l'hai scoperta. Vado. Eh si Franco, poi piazziamo il coso. Ok, vabbè ti ho trovato, però tu l'hai scoperta. Che siamo buggati oggi? Niente. Se non ci hai scoperta. C'è questo? E se non겠�ere. Il male è sto cosa E' basto come l'universo E non è un modo di dire Perché ma non funziona No li ho sistemati franco Il problema è che loro fanno il cazzo che vogliono Li ho provati io offline e funzionava No reiki a parte che così Proprio scritto così non funzionerà mai Ma vaffanculo sono andato a scavare giusto qua che c'è sta l'acqua Vabbè ma scavo un buco Nel frattempo che passa Nel frattempo che aspettiamo che passa la tempesta Mi sistemo sto cazzarola di comando Troviamo il bottino d'oro Allora Stream elements Questo io ho capito che è successo Funzionava tutto Poi ho deciso di cambiare la lingua del bottino italiano E se è sminchiato tutto No no Con la ghiocciona Tu la ghiocciona Questi sono parolacce invece Opsioni avanzate Ok Ma è normale secondo voi Ah Ah Allora Allora Franco A te il comando è così SO Anto se te lo vuoi fare da solo O se vuoi fare i comandi Che ne so Di Bartok È così Scritto così Sempre con la chiocciola Così Perché quello lì SO L'ho fatto solo per i moderatori Invece quell'altro L'ho messo per i VIP Beccatevi sto spottino Allora 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 Questo è stato sembrito Quww Quww Quai Quasto Quasto Ecco come è nata, è una ricerca di roba. Dove stai tu, scusa? Sto andando avrei. Ti vedo. Ok, è arrivato. Sconosciuto. Un'altra bestia. E lo prende. Ma qual è? Quello là in fuori. Questa specie di granchio. Eh, che era quello che ti dicevo ieri. Però non ho fatto uno prima, uno identico a me, ma mi ha segnato comunque come nuovo. Perché era dimensione diversa, sì. Ma no, aspetta, questo è diverso però. Una specie di scarabeo. Questa specie di pianta medusa qua. Allora. 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 Quello! Quello! Non è possibile questa pianità di merda. Allora. Che abbiamo fatto di male, per finire qua? La piatta del foglio l'hai scansionata? Si La piatta del foglio l'hai scansionata? Si 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 C'è una parola Qua mi dice però che me ne mancano ancora Sono a 8 su 12 Chiaro questo gioco qua quando sulla copertina sotto il titolo c'è scritto un gioco chiaro Un gioco chiaro Un gioco chiaro 9 su 12, 15 su 20, 23 su 27 Un gioco sono stati iniziali Piantaro indirizzato oppure secondo me noi ci stiamo a perdere qualcosa è impossibile che è così può darsi, può essere che non abbiamo capito qualcosa cioè, pensi che sia troppo c'è un modo per si amplificare la ricerca troppo, beh qualche strumento magari boh, non lo so botta di culo perché l'animale che non l'hai fatta ti disegna, per esempio cioè, hanno quel pallino rosso, no? però l'altra roba no meno che non ci ho fatto caso mi sembra la stessa zona dove eravamo ieri, pensa tu secondo me siamo riusciti a tornare dove eravamo ieri sì, ma adesso cioè, roba è assurda, è proprio una pianta d'ossigeno c'è per scansionarla? ho raccolto tutto, ma è possibile secondo te? animale, che sei? vieni verso di me che ci sta raggiando eh, aspetta ma la pia... aspetta mi sembra di vedere dei punti interrogativi cosa? la personaggio non camminare da solo, però sei una grande, non li ha? perché? perché quella da sui giorni l'avevo scansionata nemmeno io aspetta che qua avevo il coso aperto mi è sembrato di vedere dei punti interrogativi ma non so se me li sono immaginati o se effettivamente c'è qualcosa che l'hanno scansionato nelle vicinanze vaffanculo dove sei? ecco te la vuoi raccogliere? no, no, non ce l'ho tantissimo non ce l'ho tantissimo poi gli serve dobbiamo trovare una grotta sì, è possibile che nella grotta ci sia qualcosa di non scoperto no, 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 no There's a mo гр man sì, che вопрос ci rimettiano in marcha aspetta... vediamo se c'è qualcosa da ste zone known donno, non si può disattivare la voce dell'exo duta di controllo pazienza ... Questa è la quarta che abbiamo scondigionato prima Ok Sodio Pietre, pietre, pietre Selce, selce Fibra, fibra Che cazzo sei? Questo pianeta è un incubo Tutti credo il bioma sia tipo incubo caustico Ma il nome fu più asseccato Qua ce ne sta solo una di pianta pericolosa, vero? Quella tipo tentacolo Il tentacolo L'hai scansionato? Sì Ma siccome avevi scansionato la pianta dell'ossigeno Sì, sì Quindi non l'hai scansionato Ah, ma è abbastanza sicuro che sì Vabbè controlla nel catalogo Alexa, tu stai fuori Alexa Alexa, stop Che buona Ciao, ciao Oggetto raro trovato Frammento scheletrico consunto No, no che fortuna Io cerco Sì 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 Sei nato a teventi C'è Eh, c'è 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 una grotta Arrivo Aspettami Sì Sì Ecco me Ecco me Si va Allora Zucca di caverna l'hai scansionata? Sì Allora Dobbiamo vedere se riusciamo a trovare in questa caverna Quelle pianta Sai comunque mi sa che si è buggata un'altra volta la visuale Non si eleva la cosa verde Dobbiamo vedere se riusciamo a trovare Delle Quelle piante che Sembrano tipo dei buboni Che le ti spavano la roba Esatto Dovrebbe Quelle che quando ci passi vicino Aspettami vedo un puntino rosso C'è guarda sta grotta C'è guarda sta grotta Cazzo E' pari pari a quella che avevamo C'è guarda sta grotta 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 Ma dove sei? C'è guarda sta grotta No sto qua nella grotta No ho visto che era pericolosa però mi sono sbagliato Perché? Perché dice solo Flora pericolosa Sembra quando Un giorno magari Scansionato C'entrava Scansionato Dice solo flora Pericolosa Scusa ma dove sei nella grotta tu? Che cazzo di strada hai fatto? Oh Oh Eccomi Voglio vedere dove vuoi venire Dov'eri tu Ma cazzo sei andato? Mi sei passato sopra Ecco Io ero di line E poi tu mi sei passato per sopra sono andato qua e giù sono andato praticamente è pericoloso però dov'è flora pericolosa ecco qua la cosa rossa sopra da te non vedo nulla sopra di me non c'è niente non vedo nessuna flora pericolosa passiamo in acqua tanto stare qua cambierà la situazione allora quando arrivi qua dove sono io fermati e fai come faccio io arrivi qua aspetti vedi che è rosso là sta per esplodere e lo vedi questa specie di vulcano se ci passiamo ci rimani quindi veloce passa adesso io credo che c'è il buzz si però ci consuma un sacco d'ossigeno quindi se possiamo aspettare aspettiamo che c'è il doveva Tutto è scansionato Ho scavato un buco a fianco per passare Qu'è? Sì Qu'è? Sì Ok, scorta di ossigeno ripristinata Torna giù Ci sei? No Tu sei fatto apposta per farmi perdere la pazienza comunque Me lo ritrovo il buco Aspetta, aspetta perché sto risalendo io così mi ripiglio pure io non ho trovato ossigeno Il muro di Gaën Questa è un muro di Gaën Questa è un ruolo di Gaën passa in alto vabbè passa adesso si pensavo che eri ancora indietro ok credo non ci sia nulla a questo punto dobbiamo solo trovare una grotta di merda che facciamo ci spostiamo da questo pianeta di merda capire da dove sono usciti eh vabbè ma il laghetto è sempre lo stesso intanto comunque la navicera ce la dobbiamo chiamare questa l'avevi fatto? quale? questo cervello? ah sì 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 io non l'avevo fatta ah c'era un altro che me lo segnava rosso pure a me me lo segnava rosso ma era solo lontano ok fai quello gioco di merda chiamiamo sta naviciarla per piacere ok ok no 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 perchè In che senso, scusa? Che marica! E' scuro, eh! Ma, allontanati! Oh, pezzoli di lancio scarichi! Non ci credo! Eh, tant'è! Eh, perchè? Se lo scarichi proprio il sole di lancio? Vabbè, non ci credo che ho pensato a comburla, eh! Eh, vabbè! No, ci aspettiamo! Forza! Ah! Ma dov'è stata una vicella? Quanto lontano, eh! Da me ce l'ho da 700... Uh! Ah, la ci... Ma era perchè c'era tipo nei pressi di quel ponte di ieri, che dove siamo fatti la foto! Che il ponte lo vedo! Eh, oggi l'abbiamo spostata! Io mi ricordo, non l'abbiamo usato per niente oggi la navicella ancora! No! Eh, la dove eravamo... L'avevamo salvato... La era... Io... Cioè, ci sei entrata solo per ripristinarmi! Se riuscissi a trovarla, mi parcheggerei vicino alla tua navicella! Questa! Questa! Guardatelo, quel puntino lontano. Guardatelo, quel puntino lontano. Guardatelo, quel puntino lontano. No, cazzo, perché ce lo siamo dimenticati su... Cosa? No, forse è radio. Ecco lontano. Scatta. Ah, finalmente. Sì. 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 Ci sei? Sì L'hai ricaricato? Nooo Hai ucciso una pianta pericolosa? Sì, prima Quel tentacolo? No, quella che sta dentro le grotte Quale? Eh, quella palla che sta dentro le grotte E l'hai scansionata? Non me la fa scansionata Dice solo pianta pericolosa Non so perché Ci sono Eh, dai Andiamo Ehi Ehi Ah Adesso Deve essere un po' E' un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come minimo siamo riusciti ad atterrare nel nostro suo punto. Grazie a tutti. Atterriamo su quell'isoletta. Grazie a tutti. Almeno siamo sicuri che siamo da un'altra parte. No, no, cazzo, c'è il temporale. Ok. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Un oceano vastissimo. Eh, un pianeta. È come se prendi un aereo e poi trovi l'oceano. Incredibile. Scemo. Ecco, questo che cazzo è, per esempio? Ha un occhio, ragazzi! Oddio, mi sto sparando! Cosa? Orrore abissale, si chiama. Guarda! Sto coso. Sto questo. Quello. Sto coso lungo. Guardalo! Ehi, ehi! L'ho sparato! È morto! Eh! No! È morto! No, fermo! Lo sta rotolando via l'occhio! Fermo! No, è sparito! Ma cazzo, lo dovevo raccogliere! Che gioco del cazzo. Ok, un nuovo pesce trovato. Dov'è? Dov'è? Velocissimo! Dov'è? Dov'è? Qual è? Qual è? Perché? Dov'è? Dov'è sto pesce? Sto sopra sta... Sto sopra sta isoletta, di qua. Dov'è il pesce? Dov'è? Io di quel qua. Tipo, c'è tipo una cosa in destra. Tipo un corno. Preso. Qua c'è un altro. Ah, piutone. Dov'è? Vieni qui, vieni qui. Vieni qui, vieni qui, vieni qui. Ah, piutone. E cos'è questa roba? Dov'è? Non lo vedo. Per attenzione, Cassini. Io ho inizio l'azione. Basta, basta. Se oggi non finiamo sta missione, io la abbandono per sempre. Sti cazzi, mi manca solo una cosa da scansionare. Mi sono scocciata. Mi sono scocciata. è una roba assurda e no sense. Eh, 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 sto, sto, sto... Vieni dove sono io. Lo vedi quella roccia gigante di fronte a te? Scansionala. Ah, il minerale? Ok. Roccia. Dice sì anche minerale. Diciamo meglio, una roccia è un minerale. Perfetto. 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 Sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 non male ma se io mi smonto le cose sul multidull perché io adesso ho un multidull tengo montato, vabbè, laser minerario avanzato sto supercondensatore, vabbè, anche se è rotto se io voglio se io voglio comprarmi un altro multidull e poi voglio passare la roba che ho tipo pure sto dispositivo di prospezione sull'altro come faccio? ah, moletto ecco, me lo spieghi lei è capitato proprio a fagiolo io ho visto questo c'è questa c'è questo, quest'arma sto coso, no? io mi voglio comprare questo e voglio passare le mie tecnologie queste qua montate che vi dice questa che è S poi voglio spassare queste due voglio passare qui cioè io mi voglio passare spostare le tecnologie che ho qui su quello nuovo è possibile non è possibile le devi rifare da capo perfetto quindi se io per esempio questa l'ho trovata e adesso non ce l'ho più ma attacco al cazzo in pratica questo che mi stai dicendo però è interessante ci sta eh beh, sì effettivamente sì infatti ho visto che qui nel menu qui sotto posso decidere quando c'è scritto cambia arma secondaria quindi immagino di forse se ne metto un'altra la posso fare da qua no, boh com'è scambia multitool ecco qua eh sì mi sa che mi conviene far così infatti me lo compro lo acquisto beh, c'abbiamo ancora cioè, almeno tu l'hai comprato un altro io ce l'ho stesso ancora da guarda questo sì, guarda questo quanti slot tiene no, io il multitool c'ho quello là a fucile, no? che avevo comprato ti ricordi? eh, appunto ho detto tu l'hai preso un altro io ce l'ho ancora il primo ah, no penso che era una domanda no, no mi ricordavo guarda quanto è bella star guarda quanto è bella star oddio, che devo fare per avere direttamente quello tanto, voglio dire ma quanto abbiamo capito non so cosa sai che ti cambierò la vita mi pare di aver capito che non ci spoiler vi sbagliavo che non ci spoileriamo non ci rovigliamo l'esperienza di gioco mi pare oh no cioè, la mia vita non è cambiata da quando c'ho quella navicella assolutamente ah, ok non mi sembra troppo facile capito? è uguale no mi dica, mi dica mi dica come come devo fare sto punto non è manco per i soldi guarda questo costa relativamente poco però ha 20 slot eh sì perché praticamente siamo solo a scansione la pianeta e qua abbiamo fatto ancora un cacchio no, nel senso che tu hai più spazio hai più cose ma fondamentalmente non è che il gioco diventa diverso cioè, non è come se appena cominci su GTA su Gran Turismo hai la macchina definitiva che fa tutto secondo me poi magari sto di nastronzato bello sto multidurlo l'ha giudicato scusa l'ho preso io cioè te lo sei comprato tu no io guardo ci crede beh no è un muoto a comprare vabbè te lo puoi comprare no no ce l'ho ce l'ho lo puoi scambiare cioè nel senso se non hai rifatto tutte le tecnologie ah che cos'è che ci serviva possiamo chiedere sempre un muletto se c'è sta qualcosa che facilita la la ricerca di cose non scansionate no no quella cosa che ci serviva l'altra volta per recuperare dovevamo ricostruire la tecnologia che si era rotta e non sapevamo ah il computer quantico ah il progetto tipo del computer quantico dov'è se esiste perché ci si è rotta una tecnologia che cos'era il che cos'era il coso di prospezione credo puoi sbloccarlo mi sa l'anomalia spaziale ah ok dobbiamo andare se si si vabbè controlliamo perché tanto voglio dire ma quindi che stiamo facendo stiamo facendo il teletrasporto a casa per andare a parlare con Ciccio si si allora aspetta un secondo fammi vedere due cose cosa ti aspetto a teletrasporto vabbè a stupendo aspettamo a casa si vado a casa eh appunto visto che si è capito che non vuoi aspettare no se ho detto aspetto a teletrasporto si ho capito ti aspetta l'anomalia ti aspetto là ma aspetti sempre un po' più avanti aspetta ma a casa e vai avanti con la missione no eh scusa eh no no vai vai a casa va a Grazie. Questo me lo levo perché non mi serve. Questo pure perché non mi serve. Questo pure. Dobbiamo assolutamente sbloccare il terminale. Quello lì ci sei? Stiamo partendo. Quello tipo per vendere sulla base. Stiamo partendo. Oddio. E come cavolo sei scappato? Ti sei fatto venire a salvare? Per forza. Esatto. Infatti. Mi dobbiamo evitare i bug come i proiettili su questo tipo di giochi. Ho detto che ho scritto. Non così. Così mi è andato un po' di avventura. Però sai che panico. Cioè. Sei su un pianeta senza uranio e puoi ricaricare una cosa solo con l'uranio. È il panico totale. Ok. Il panico. È il panico. È il panico. È il panico. Grazie a tutti. 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 Ok. Ok. Allora, vieni qua. Fatti una bella scorta di carbonio, quello che è, da sti cosi. Grazie a tutti. Andiamo con la vicino. Dove sei. Ah, sì. Oppure l'hai proposto tu. Io avevo proposto arc. arc. è sempre di notte. partiamo. Impressionante. grazie a tutti. Dove vai? Si va Come fa la tua macchina a estellare? Era qua a fianco alla mia Non ci sto credendo Non ci sto credendo Non ci sto credendo Ragazzi Non ci sto credendo Guarda in che cazzo di buco mi sono infilata Ma guarda Guarda quanto è piccolo Sono entrata proprio a saponetta No Meno male che siamo vicino a casa Vabbè cerchiamo Eh beh certo Mannaggia Opa Eh Sì 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 ci sei? aspetta sto a farla con la basetta si usciamo un po' alla vicenda poi possiamo andare pure ok che dice la missione? perché ogni tanto scompare da sotto e non si può più rimettere? questa acqua del ocean zero dice che comunque bisogna uscire dal sistema naturale vengo da di scelti da sporto si insieme da creare ecco 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 va? si dimmi quando sei qua e aspetta un secondo che? grazie 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 ce la faremo prima o poi allora vediamo un po' oh 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 è una stazione spaziale ma dove fai il teleport? è sempre dalla stessa parte ormai da un bel po' qua dentro magari? ah è vero si va? vai vai avviati si va? si va si va si va dunque penso che per il momento qua ci si ferma guarda dove l'ha potuto menare guarda dove l'ha potuto menare guarda dove l'ha potuto menare eh si so cretino no ma niente facciamo parte oggi sto gioco mi ha proprio fatto perdere la pazienza veramente giuro va la ropa impressione Grazie a tutti. Ti sei preso un po' di risorse o qualcosa? Carbonio. Il sodio te lo sei preso se per caso ce l'hai qua dentro e ti può servire. Ce l'ho il carbonio di sodio. Ce l'ho il 328. Ce l'ho. No, siccome non so se ce l'ho per caricarmi, poi sta a casa, si può ricaricare e non lo prende, va a finire che si è arrivato su un altro pianeta e mi dici che l'hai finito. Capito? Cioè, partono le madonne poi. I take. Mi ha raccolto... No, sbagliato, no, tutta una cosa, una cazzata. Ma aspetti sulla stazione spaziale? Sei già là? Sì. Sì. Sei già là? Sì. Per caso hai capito su che cosa dobbiamo andare? Tu ci vorresti avere il simbolo della missione, insomma, di questa città in bolla. Sì. Sì. Mi saprano qua. Grazie a tutti. 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 Ah... Ah... Oh... 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 3... 3... Carico... Oh... 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 Ti stai dirigendo verso la stazione spaziale. Perché tu sei alla stazione spaziale, evidentemente. Cioè, è quella la direzione. Il problema è che io sto puntando la tua nave. Ok. 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 Devi vendere tipo qualcosa, cose del genere. No. Vediamo se c'è qualcuno che sta giocando a questo gioco. Ok. Per fare un raid. Ok. 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 e il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info che palle vabbè raga mi sa che oggi niente e no vabbè ci ho provato andiamo da volevo capire e darne uno nuovo invece andiamo da cosa almeno non va sprecato questo cosa volevo capire intanto becca una persona nuova si si però vabbè allora noi siamo qua e stasera ok ciao 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 ciao